Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Allora, le ultime notizie di mercato parlano di un Douglas Costa molto vicino al Manchester United. Il mio pensiero è che Douglas Costa sia uno di quei giocatori che la Juve debba sacrificare per il mercato, non tanto per le qualità balistiche del giocatore, che insomma sono assolutamente di prima qualità, probabilmente uno dei giocatori più tecnici che abbiamo visto negli ultimi anni della Juve, ma per due motivi. La prima è la stupidità calcistica, penso che a volte fa delle scelte che non hanno nulla a che vedere col gioco di squadra, perché magari si intestardisce troppo in qualche dribbling di più, a volte sbaglia passaggi e conclusioni semplici per uno di suo talento, ma il motivo principale secondo me è proprio la tenuta atletica. Si infortunia spesso, non dura mai più di 15 minuti a partita, questa è una cosa tremenda, perché è un giocatore che se riuscisse a mantenere il ritmo per non dico 90 minuti, ma per 60 minuti con continuità sarebbe un giocatore devastante, di cui non privarsene, ma che invece purtroppo è un giocatore che messo in certe condizioni non rinde. Quest'anno abbiamo avuto la conferma, l'aveva già detto Allegri, l'ha detto anche Sarri, e quindi l'ingaggio è molto alto, e credo che questo sia il motivo per cui principalmente la Juve sta cercando di liberarsi di Douglas Costa, non tanto per le sue doti tecniche, quanto appunto per questi motivi qua. E quindi assolutamente sono concorde con la successione, pur dispiacendomi, perché comunque è uno di tanti vorrei ma non posso, uno di quei giocatori che sai che poteva fare la differenza, ma alla fine non l'ha fatta, e secondo me molto non l'ha fatta per causa sua. Non cerchiamo causa di allenatori, perché non è un giocatore che gioca in tutte queste squadre, Bayern, Juve, eccetera, e non riesce mai a diventare titolare, ma giocatore da partita in corso, e spesso gli allenatori lo danno via per la disperazione, vedasi Guardiola, vuol dire che qualcosa non funziona, perché vuol dire che qualcosa non funziona in lui, e credo che lui abbia qualcosa che non vada proprio personalmente, faccia proprio fatica a fare la vita da professionista. Detto questo, adesso staremo a vedere le ultime news, ma credo che digererei molto la cessione di Douglas Costa, anche se, come posso dire, ampliando il discorso, pensando che potrebbe addirittura essere una piccola anticipazione per un eventuale ritorno di Pogua, che non sarebbe affatto male. Quindi ragazzi, vi saluto e vi appuntamento con il prossimo video che arriva tra pochissimo. Ciao a tutti.